Un video sportivo con una settimana di ritardo. Vabbè, va meglio tardi che mai. Volevo portare tutti i miei saluti al grande Franco Lauro, grande volto della Domenica Sportive di novantismo minuto, che sette giorni fa purtroppo ci ha lasciato le penne e causa un infarto nella sua casa di Roma. Ciao Franco, è stato bello, non ti scorderemo mai. E purtroppo adesso quelle due rubriche sportive non saranno più la stessa cosa senza di lui, senza il suo bel faccino rotondo che ci ha sempre accompagnati, senza la sua inconfondibile voce che commentava anche, se non ricordo male, le partite di basket. Comunque, purtroppo se n'è andato. Adesso speriamo di riuscire ad abituarci presto ad un altro cronista come lui. Non so, non so chi ci sarà, chi mai lo potrà sostituire. E va bene. Ciao Franco, è stato bello, ci hai accompagnati per tutti questi anni. Più di 30 saranno stati sicuramente, non lo metto in dubbio, forse io non ero neanche nato quando tu sei approdato nella lettera italiana dello sport. Ciao Franco, ti porgo i miei saluti, le poso in pace amico.